ragazzi devo studiare arte, mi doveva aiutare a studiare arte, ma non abbiamo fatto male di tutto ciò ovvero che dovevamo svegliarci verso le 8, ci siamo svegliati alle 10 e 10 siamo stati mezz'ora nel letto e poi siamo andati che maschera usi è love extreme di essence? sto mettendo prima il maschera di fare gli occhi perché come mi ha fatto rendere conto da Kami è meglio che faccio prima il maschera perché appunto mi sporco tutta sempre e oggi queste ciglia non sono molto di aiuto direi perché stanno uscendo malissimo mamma mia ciao ti metti a chiedere, volevo metterle secondo me spaccano con le ciglia finte però solamente alla fine quindi le ruberò una sorella perché le appena comprate ho comprato proprio i set quindi le voglio fare io le chiederò se posso metterle anche perché oggi ho delle ciglia orribili ho delle ciglia poco orribili veramente ecco lo dice anche lui ho questo? cosa? si ok vabbè se metterò le ciglia finte sarà meglio per me perché veramente oggi ho fatto l'errore degli errori l'orrore dell'orrore è veramente bruttissimo quindi è veramente bruttissimo adesso la mascara è Grazie. Oh mamma, non ce la faccio più a metterlo, non voglio metterlo, mi sta passando la voglia di metterlo e di truccarmi. Raga, il mascara è la cosa più che odio, veramente. Perché altro perché ci metto... Non si usa il piegaciglia dopo il mascara, infatti non l'ho usato. L'ho usato? No. Non l'ho usato. Non l'ho usato, non l'ho usato. Ok, forse questi stanno uscendo molto meglio delle altre. Però comunque penso di mettere le ciglia finte, perché ho un occhio bello, dove sono mandata. un occhio decente, un occhio decente e l'altro no. ce l'ho usato. Ce l'ho fatta a metterlo più o meno. perché? Allora, mi serve... mi serve... come si dice... come si dice... lo struccante e di cosi. Quindi adesso chiederemo a mia mamma, lo sporchi di mascara, lo so, di portarci delle cose. che è questo. Iniziamo a vedere questo. il ragno a pulire soltino con minuto ma non sistemare per bene io con tutti e due se no ok il primo occhio più o meno l'abbiamo fatto manca il secondo che è il più dannoso aspettate e prendo anche un po' di farta poi prendiamo la spugnetta dove avevamo la spugnetta e mette già tutto via aspettate un secondo si è tutto mosso il mascara oh 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 ah ma non so perché senti dato tutti gli errori che farò ok andiamo con la spugnettina a picchiettare la palpebra così in modo tale da appunto andare a mettere l'ombretto di sicuro questo mascara oggi è orribile guardate perché ho l'ombretto di camera così sporco oh è la luce sicura adesso passiamo c'è l'unica paletta decente non l'ho presa ecco l'è non c'è come si mette questa è rosa non mi piace questo è un errore no che colori metterò sui miei occhi allora usiamo la la cellula noi da mettere sugli occhi e prendiamo un pennello ok qua non c'è manco un pennello perché ho sbagliato cosa Alice Alice no no allora andiamo con questo pennello che non è proprio per gli occhi sarebbe quello per l'illuminante ma non mi criticate perché non ho voglia di andare giù a prendere se non va a camilla però non penso che anche lei abbia voglia di scendere a prendere delle robe e perché ho sbagliato il contenitore dei pennelli quindi andiamo prima con un po' di marroncino all'interno così un po' molto a caso perché ovviamente come vi ho detto non sono capace a fare queste cose andiamo con tutti e due gli occhi perché abbiamo solamente un pennello noi giustamente perché io non sono capace a prendere le cose corrette quindi andiamo a fare qualcosa del genere vediamo prima così con quello più chiaro e poi mettiamo quello un po' più scuro all'esterno qui prenderò un pennellino e lo metterò all'illuminante tutto sulla valvola andiamo per bene anche perché deve essere bello scuro ah ma fa schifo vero? sì dai non mi prendo un giro sei nera metti un colore più chiaro sopra ma perché io devo fare questo cioè sotto ho i trucchi belli no? giustamente ma io devo sempre rovinare le cose perché non ho voglia di andarle a prendere ma forse stiamo migliorando la questione facendo così cose un po' a caso giustamente perché a noi l'importante sono le cose a caso sto utilizzando a Brett che non sapeva neanche della sua esistenza ok adesso facciamo la stessa cosa sull'altro occhio anche perché oramai il pasticcio l'abbiamo fatto e perché non farlo da tutte le parti giustamente no? ok andiamo per bene a piantire questa cosa perché mi viene sempre male tutto io raga non so fare queste cose io non le so fare veramente quindi faccio sempre i casini faccio ridere da sole questo è bello andiamo a fare così no raga forse voi non avete capito che quando ero piccolina ero bellissimo fare queste cose adesso mi chiedi di allora se mi chiedi di truccarti normalmente lo so fare ma se mi chiedi un trucco occhi no no bozzata assolutamente anche perché si utilizza lo stesso pennello per tutto e io direi di andare a mettere è arrivato il momento di schiarire il tutto con gli illuminanti che adesso andrò a mettere allora io direi di metterne un po' questo qua marroncino all'interno dell'occhio quindi qua tutto qua per andare a schiarire a me non mi guardare come ti prego perché lei dovete capire che lei è brava a toccare però io no senti il tossico non è nessuno è amo vuoi vedere chi è veramente oh cioè l'aspirapolvere è automatico quello che va a terra penso l'abbiate visto tutti il robottino e il robottino continua questa porta esatto che continua a passare la porta esatto no non è nessuno è lui che rompe a noi allora io ragazzi penso che dopo questo trucco non mi truccherò mai più nella mia aspetta non amo manca un bel po' intanto cioè queste si fanno subito se vuoi tu vuoi iniziare a farti i capelli amo amo sì allora se vuoi iniziare a farti te sì allora penso che posso farti meglio però sono proprio peggiorata in queste cose veramente vai amo così subito no non è pronta tra poco fa di nuovo ok penso di avermi accettato un occhio ti hanno detto che sei bellissimo grazie vai è pronta amo se lo fai piano lo fai in tre secondi e se fai una cosa piano lei cheat piano più veloce del 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 ok forse ho migliorato un po no amo però questo è strano cioè nel senso che questo grazie grazie veramente già non so truccarmi in più lei mi insulta dicendomi che ho l'occhio nero ma devi capire che io non sono capace di queste cose oh 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 che ha questo è che mi ha ancora accettato i traumi qua andiamo per bene dopo questo ho questo trucco guarda sono sicura che esatto perché io non sono brava in queste cose ciao guardate c'è raga non fa per me questo trucco so che posso fare di mille però raga veramente io non sono anzi è calda per fare queste cose ma proprio per niente un po qua testa un occhio più scuro dell'altro vediamo questo è più bello dell'altro no? vediamo sono due taglietti diversi vero? si dai è tra l'altro qua e ora la fine di quell'altro così ma questo è più strano cioè raga è messa le ciglia finte no ma qua è il pacco? ancora? eh? è il pacco di lecane che cosa? il pacco di ciglia no è un boh? devo chiedere proprio lo spesso amole lo vuoi chiedere a tu ti prego? si di darmi le ciglia perché io in queste condizioni non posso che vuoi fare? no senti qua qua è finito tu? no devo fare l'altra metà ok allora aspetta che lo spesso ok allora intanto io penso un pochettino a sistemarmi in qualche modo il mascara che ho messo perché si stiamo un pochettino questo mascara orribile che ho messo non so se il cadere è che la vedi si sta ok 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 devo mettere cos'è questa cosa? ok 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 Ok, scusa, la cosa, comunque è arrivato un momento di togliere la cipria, quindi andiamo a togliere tutta la cipria, poi sistemerò gli occhi anche perché io e gli occhi raga non siamo, non andiamo d'accordo, ho detto sinceramente, però va niente, ovviamente devo fare, posso mettere la matita nera, è vero? Adesso metteremo la matita nera dentro l'occhio, è l'unica cosa bella che mi esce, ecco perché fa schifo, perché non ho messo l'eyeliner, ecco adesso mi sto ricordando tutte queste cose che posso fare, non c'è, ma di lì che io me le metto, che ho le ciglia bruttissime oggi, diglielo, c'è nel senso? Allora, andiamo a mettere la matita nera dentro l'occhio, ah ma sai perché fa schifo, perché non ho messo l'eyeliner? Adesso farò il risultato, lo assicuro, ma lì lo sistemiamo in qualche modo, no in realtà tutto fino all'ultimo concorso mi è riuscito bello, bello o un po' sordo? Ok, sai quanti messaggi mi saranno arrivati? Non so fare queste cose veramente, perché me le chiedono di fare? Io non le so fare. Oggi sarà che mi è uscita? No. Adesso ho detto che ti assumo le iris di domenico. Ok, ok, ho fatto qualcosa di decente più o meno con la matita e adesso è arrivato il momento di mettere l'eyeliner. Adesso ci vuole precisione ragazzi. Ok, guarda. Guarda. Novella, sì. Ok. Adesso. Adesso. Però sono diversi. Ma sono diversi, amo, sì. Questo è un po' piccicciotto alla fine, vero? Però è l'altezza uguale. Guarda, sei dritta. È un po' piccicciotto a questo. Però sono altri uguali. Guarda, questo qua è più... E questo è dritto. No? Non capisco, ragazzi. Ah, ho capito, sì, sì. Quale signore ci sta abandonando ragazzi. Allora, io direi no. Sto facendo una cosa druttissima. Scusate, no. Ok, guarda adesso. No, aspetta. Questo è più lungo. No, questo è più lungo. Allora, c'è una scuola lunghissima. No, ma non con quello. Sì, lo fai più preciso. E ma... No, non mi sporco tutto. Mi tengo tutto il trucco, perché... Ok, guarda adesso, ok, ok, devo finire un pochettino l'occhio, questi sono gli occhi, diciamo che potrebbero farli meglio, però io e queste cose non andiamo molto d'accordo con il punto che vi ho già detto, devo fare una gara, amo questa piastra, la devi usare, non ti faccio la piastra, aspetta, tu ti fai la parte davanti, poi la faccio la diretta su TikTok, ok, adesso dopo aver fatto questo, dov'è il coso per togliere tutto il trucco, andiamo a togliere per bene appunto la cipra che ho messo prima, bene sulla fronte, e adesso mettiamo tutto il blush e le cose in polvere, ovvero mettiamo la cipra in polvere, non mi la fa danza, no, fai, qui d'attenzione, e vado qua, poi vado di qua, ma sono macchiata, scusami, andiamo a macchiare, coloriamola, con questo, no, qui, no, con l'altro pennello, con questo qua, aspetta, andiamo qui, però non mi piace il mascara, sembra che non ho le ciglia, ok, mamma mia, sembro, non so che cosa, mi sta mettendo il blush di essence in polvere, si, ha un caso sul naso, e inoltre, este è un dottore, non mi piace, allora, se lo dovego, mi piace, non mi piace, se lo dovevo spumare, lo avevo spumato, non so che, no, mi piace, no, mi Hang a commenta rim sounds, qua, non svegliato, non mi piace, mi piace, ci vedo, perché non mi piace, Io odio veramente fare queste cose, ma il signore vuole che io le faccia. Ok, ancora l'assetto. E hanno il bordeaux dappertutto. Allora, dammi un attimo la mascara. Metti qui quello mio. Che fai di questo? Cosa? No, non ho capito cosa ho detto. Metti qui questo. Ah, ma con quello sono sicura che mi sporco. Sì? Secondo me sì. C'è un po' così. Accendola. Ho messo già le cose in maschera male. No, vabbè. Almeno te l'ho l'ombretto, amo. Allora, sto sistemando un pochettino la mascara. Ma in tutto ciò che muore sono. Allora, sto scemo malissimo al mascara. Allora, sto scemo malissimo al mascara. No, mi dobbiamo mettere il rossetto. Che non ho. Che non ho. Che non ho. Che non ho. Amo, di là in borsa. Me lo prendi, ti prego. Che non ho la marca? Che non ho la cosa che ho usato ieri. Intanto io mi lavo. Ah, ma quella mia. Ah. Intanto mi lavo le mani perché direi che avrei molto bisogno. Ti trucchi tantissimo. In realtà io odio litigarmi. Sì, vabbè. Scusate, ho letto un commento. Ho scritto una linea in italiano, però va bene. Stavo dicendo che io odio truccarmi così tanto. Però, siccome oggi ho una gara, non posso che non truccarmi così tanto. Quindi, adesso passiamo al rossetto. Odio queste cose. Ok. 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 si vede che è una della mia collezia che cosa? è una delle luci ah questa è quella lì come si chiama? essence adesso adesso utilizziamo questo qua per andarlo a schiarire sono truccata malissimo continuerà a dire ok perché fa così? ah si è spinta da sola ah ma si spingi da sola che bello perché dice da ripiense da con carne mi sa poco di sì allora intanto noi vi salutiamo che si sembrano tutto e vi aspettiamo nella diretta su TikTok mi faccio i capelli questo è il risultato del trucco so che sembro di cochi però mi dispiace perché se farò una gara e non possono toccarmi così quindi vi mando un grosso bacione e vi aspetto nella diretta su TikTok così almeno facciamo insieme i capelli perché me li devo piastrare per una coda direttamente mi dispiace Grazie a tutti.